Pesano 22 kg e mezzo e insieme costituiscono un testo che però in realtà è un forno, dicevo prima lui, è un forno e non è un testo, è un forno perché è chiuso, è esattamente come un forno, è un forno ambulante che una volta i carini e i carini portavano sui monti per poter avere di cuocere, tra i dolci al pesce alla carne alla pizza al testarolo, il testarolo è l'unico che viene fatto senza metterci un'altra piazza, ma viene a contatto diretto. Ecco, quello è l'impasto di acqua, farina e sale, sta facendo Lorenzo, ecco, quella è un'operazione che sembra semplice, se ci provate non riuscite inizialmente, con un po' di allenamento. Il testarolo diceva prima Antonio che tutti lo conosciamo in realtà, non so se è proprio così perché il testarolo non è conosciutissimo, non è certo come la pietroga, però a livello industriale c'è, ad esempio ci sono gente di erdogri, lo trovate, credo che quello sia conosciuto, questo però è quello artigianale, il presidio, questo è quello che non ha visto fare nessuno.